Queste sono le leggende metropolitane che non ci crederai ma sono davvero vere Bunny Man Nel 2016 tra le strade di Fairfax in Virginia viene avvistato un uomo armato travestito da coniglio L'uomo andava ogni giorno nello stesso posto e si fermava a fissare i bambini mentre giocavano fino a quando non faceva buio I bambini gli domandavano spesso chi fosse e lui rispondeva di essere un simpatico coniglietto pasquale Ma quando arrivava sera e loro tornavano a casa, lui li seguiva Quindi sapeva dove abitavano e la notte entrava nelle loro case, uccideva i loro genitori e rapiva i bambini Dopo una serie di rapimenti e omicidi la polizia finalmente riesce a collegare i crimini al coniglio Ma nessuno riesce a trovarlo, nessuno sapeva dove viveva e soprattutto chi era Fino a quando una notte una pattuglia non ha vista in un parco un coniglio con un'ascia E la mano nella mano con una bambina Devo continuare nelle storie